Vi lascio nelle mani della signorina Chiara che vi illustrerà i magici bagni in cui pensavano che fossimo andati a far sesso e il toilet police è venuto a controllarci Ciao ragazzi, siamo ancora in volo, questo è il mio calzini molto sexy e questo è il bagno della First Class di Emirates e quindi siamo stati upgradati perché il sedile di Fede non funzionava La mia faccia è molto sveglia, quindi abbiamo il water e la cosa più bella, la doccia e la cosa più divertente è che io ero entrata in questo bagno e Fede nell'altro e mi hanno bustato sgridandomi dicendo che non potevamo entrare in due nello stesso bagno erano convinti che facessimo le cosacce in questi bagni ma non è siamo tornati nella mia Milano stavamo per perdere le valigie ma fortunatamente non le abbiamo perse allora c'è lo stilista di Vetement che fa queste cose poi a illustrare, scusa, questo è un bomber con un serpento ma che sciarbe è una manica lui? cioè io volevo dirti, caro stilista di Vetement, ma cosa cazzo ti fumi? buongiorno 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 sono raffetto e un piccolo napo che è Fede l' casa e ora ora vengo per la dressa per tenere per fare la mia halla per la domanda per il mio domanda nornate da domanda siamo vivendo a Porto Barri come fare le prove di un'acqua back to sushi